eccoci qua si ritorna sulle retiche monte d'alico si ritorna col botto guardate qua che bello esemplare fresco bellissimo andiamo avanti guardate ragazzi quel porcino su lì l'ho visto da 30 metri guardate come ci guarda andiamo a coglierlo una cosa fantastica guardate guardate che fumo anche qui un altro vicino guardate che belli belli sani belli di nascita possiamo già andare alla cavatura sentite come suonano sono tornati i retici signori mamma mia che funghi bellissimi andiamo a cavare anche l'altro sentite quanto sono belli adorabili questi funghi guardate che sanità ottimo andiamo avanti sentiero ragazzi guardate qui sotto questo nocciolo cosa porta il nocciolo cosa regala mamma mia questa qua bomba freschissima bomba freschissima andiamo alla cavatura sperando sia in buono stato e non mangiato perfetto direi senza dubbio uno dei migliori di oggi andiamo avanti passati 15 minuti senza niente ma guardate qui in pinetta cosa nasce cosa nasce ragazzi guardate che fungo che fungo mamma mia fantastico andiamo avanti ragazzi questa giornata sembra non finire più ma guardate che funghi che funghi andiamo alla cavatura dove crescono sui ceppi d'erba incredibile ragazzi cosa ci regalano queste retiche ma guardate che bianco che duro che sanità bellissimo per concludere al meglio questa giornata forse perché ormai ne troviamo uno dietro l'altro e anche molto belli a dopo o alla prossima grazie a tutti grazie a tutti